story time evoluzione radio e bentornati amici di story time con una nostra nuova storia prima di passare la parola al nostro ospite vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di story time avete una storia da raccontare noi siamo la radio giusta per voi come mi piace ricordare il nostro c'era una volta parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali perché la vostra storia ma soprattutto la vostra vita io sono stefano e oggi sono in compagnia di paolo che ci parlerà della sua attività dunque io rappresento l'associazione ados san paolo che ci occupiamo prettamente della donazione e promozione alla raccolta di sangue sostanzialmente la nostra associazione è a milano capite benissimo cosa vuol dire donare il sangue perché è una considerazione sicuramente va oltre quello che è la nostra il nostro spirito personale perché è sicuramente un atto di solidarietà è un atto che socialmente ha una sua valenza perché ciascuno di noi comunque può fare senz'altro qualcosa per l'altro in questo legame che non è chiaramente legato da fattori economici o quant'altro c'è sostanzialmente la volontarietà di fare del bene per il prossimo perché il sangue non è sintetico attualmente non esiste è una fabbrica naturale che il corpo produce e di cui tutti abbiamo necessità e bisogno quindi non è che si va in ospedale in ospedale se non si dona il sangue non c'è quindi è un concetto che ci deve in qualche modo sicuramente assolutamente coinvolgere perché senza questo non potremmo fare alcuna attività chirurgica non ci sono possibilità che il sangue venga creato da un laboratorio se non appunto come dicevo prima da elementi strettamente nostri perché siamo una fabbrica il corpo è veramente una fabbrica quindi la perfezione di sentirsi insomma in linea con se stessi l'avere un senso di autostima considerarci in qualche modo così come come uno spirito con spiriti di saggezza e di volersi bene soprattutto significa in qualche modo essere pronti all'appello quando necessita perché lo star bene ci fa fare tante attività e comunque siamo sempre lì sul pezzo per qualsiasi esigenza noi abbiamo e come nasce l'associazione l'associazione nacque circa 28 anni fa per iniziativa del professor gianna alessandro moroni il quale essendo agli albori in quel periodo sostanzialmente l'associazione ha creduto con i pochi soci fondatori di iniziare questa attività perché si comprendeva come negli anni 90 80 diciamo la necessità che ciascun ospedale potesse avere contribuire come unità produttiva alla raccolta non era una sorta di chiamiamo sopperire a ciò che fino ad allora era stato perché in genere donavano i militari però insomma presso la popolazione era poco sentito però chiaramente il dotarsi di ogni ospedale di un centro trasfusionale evitava che quello che potevano essere i tempi di raccolta potevano essere molto più lunghi quindi autoproducendosi nel proprio interno questo tipo di raccolta permetteva di poter avere il plasma in tempi più immediati in tempi più programmabili anche per i reparti perché sicuramente questa situazione non era facilmente gestibile allora tutta la riorganizzazione nacque dopo dopo che ci fu la faccenda del dello scandalo del sangue infetto all'epoca del del ministro de lorenzo se non sbaglio e quindi insomma c'era la necessità di riordinare un po le idee e trovarci in una condizione di poter affrontare il futuro in una condizione migliore chiaramente questa questa considerazione ha comportato che gli atti di volontarietà il riunirsi il trovarsi per poter far crescere l'associazione perché l'attività dell'associazione si basa sostanzialmente sulla promozione perché questa è la prima spinta poi è chiaro che l'associazione deve in qualche modo rendere fare in modo che le informazioni le informative arrivano alla popolazione perché è una consapevolezza che la popolazione deve acquisire sulla base di quello che ciascuno di noi evidentemente deve sentirsi coinvolto la vita è molto cambiata rispetto ad allora è molto più intensa è molto più chiamiamola c'è un'attività piena 360 gradi giorno notte e gli incidenti come ben sappiamo sono all'ordine del giorno però è chiaro che tutta questa situazione pone la società in condizioni di rischi che se non abbiamo il supporto non solo delle associazioni ma anche della popolazione che possa venire in qualche modo ad essere essa stessa la prima fonte alla quale credere per poter dare un sostegno un aiuto a chi ne ha bisogno che non è solo il fattore traumatico e anche non so l'aspetto consideriamolo della maternità in gravidanza una donna può perdere anche molto sangue a causa di emorragie quindi a volte tre quattro sacche di sangue salvano vite del nascituro salvano vite della mamma è una considerazione che come vedete riguarda tanti aspetti della nostra vita quindi bisogna un po inquadrare quello che è l'atto di donazione in una gestione molto più complessa che la società oggi appunto richiede date anche qualche evento sì per quanto riguarda gli eventi noi ovviamente la nostra informativa si basa sul riscontro con scuole solitamente l'informazione che diamo nelle scuole riguarda le quinte quindi cerchiamo di coinvolgere i ragazzi diciottenni perché sono la fonte primaria di un'attività continua di donazione sono certamente la base essenziale di quello che può essere un attività futuro considerato che un uomo un ragazzo può donare ogni tre mesi la donna ogni sei mesi quindi ci sono considerazioni che l'avere un parco donatori giovani garantisce in prospettiva una fruibilità maggiore per i servizi essenziali alle quali la sacca di sangue chiaramente quando c'è diventa diventa essenziale ecco ed è anche molto importante lo scopo della prevenzione giusto? certamente sì perché questo sembrerebbe una così considerazione di sì vabbè vado a fare la donazione ma la donazione cosa comporta? comporta che tu ti senti in qualche modo sempre oggetto di un controllo che tutto sommato ti può salvare la vita perché dai riscontri degli esami eventualmente si può anche vedere se tra un esame e l'altro evidentemente quindi tra una donazione e l'altro nelle tempistiche dei tre mesi e sei mesi come dicevo per le donne dai 18 anni in su sostanzialmente a volte possono nascere fattori immunologici che uno non conosceva prima e chiaramente prenderli per tempo significa poter lavorare con terapie appropriate e quindi dal punto di vista fisico personale insomma poter uscire anche da situazioni imbarazzanti che invece se non sono in qualche modo gestite e viste attraverso riscontri di esami queste situazioni insomma possono trovare difficoltà poi ad essere curate allora ti chiedo dove ti possiamo seguire a contattare per avvalerci della tua figura professionale naturalmente dell'associazione dunque noi siamo ubicati presso l'ospedale San Paolo di Milano diciamo zona famagosta e c'è un centro trasfusionale all'interno c'è una nostra segreteria che naturalmente sia sui canali social che su internet è possibile poter in qualche modo essere informati sia su orari e quanto riguarda l'organizzazione stessa del servizio in genere comunque noi siamo aperti sette giorni su sette o quasi tranne una domenica mi pare al mese una o due ma comunque ci sono negli orari è possibile donare il sangue dalle 8 alle 11 dal lunedì al venerdì il sabato e la domenica appunto come dicevo se siamo aperti dalle 8 alle 12 la visita per idoneità è una visita normale che viene svolta attraverso un controllo con un medico apposito il quale dà l'idoneità ovviamente se certi parametri sono adeguati allo standard naturalmente quello che si chiede è di avere una correlazione col proprio stile di vita perché donare sangue significa donare il proprio sangue che sia nelle condizioni di poter essere accettato dall'altro perché situazioni rischiose di comportamenti personali diciamo che non vanno bene chiarissimo quindi credo che da questo punto di vista poi però suggerimenti informazioni e situazioni personali trattandosi di privacy possono essere risolti con il colloquio medico allora invito naturalmente tutti a seguirti e a contattarti e ti ringrazio di cuore per questa chiacchierata e ti auguro una piacevole giornata grazie grazie mille amici di story time la nostra chiacchierata è appena finita fra poco ne inizia una nuova non dovete perderla story time evoluzione radio